mi è arrivato oggi un supporto da tavolo per microfono della marca gravity in questo periodo ho comprato un po di oggetti di gadget per l'audio della marca gravity è un brand che mi piace molto fa oggetti costruiti mediamente bene con una buona qualità con un prezzo accessibile e quindi il brand gravity è così questo è costato compreso le spedizioni da amazon costato meno di 20 euro 19 euro e 48 le recensioni sono 5 stelle e 22 recensioni quindi è un oggetto che è stato gradito anche dal pubblico qui è direttamente grande non mi sembra che si possa svitare ok e quindi si tratta di una base pesante un chile 3 in grisa c'è il peso totale in questa base si va ad abitare questa prolunga che sarà più o meno una ventina di centimetri qui c'è scritto 13 per 13 per 13 per 13 per 13 ma questo mi sembra di più di 13 a me sinceramente e basta però non lo prendi ecco mi stavo vedendo sta dimensioni articolo l p a 13 13 13 qui non c'è 13 qui si tratta di un 16 un 16 poi dopo se tu lo guardi da qui comunque un 15 infatti non non invece questo il cerchio 13 per 13 ci sta sì questo è 13 per 13 ok perché cerchio però è un pochettino più alto lo utilizzerò con questo vado a togliere lo sgancio rapido questo c'è una base per microfoni stereo in maniera tale che li li metti come voi tu della rode anche questo ho preso su amazon ok due microfoni e questa devo 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 togliere questo stato un po duro però alla fine ce l'abbiamo fatta ad allentare sta adattatore qua vediamo un po' adesso questo lo giro con le mani adesso lo potrà servire più avanti ecco ok aspetta che togliamo il microfoni ok perfetto quello che volevo ho la mia base microfono va bene ragazzi sicuramente ve lo posso consigliare c'è una parte qui sotto di gomma c'è una parte sotto di gomma e 20 euro compresa spedizione sicuramente è un prezzo adeguato per la qualità del del prodotto di questa base del microfono della gravity ciao mitici